Hai costruito il tuo portafoglio a prova di bomba coerente con il tuo orizzonte temporale, spese previste nei prossimi anni e profilo di rischio, ma ti stai domandando se dedicare anche una certa percentuale alle materie prime per rendere il tuo portafoglio perfetto, completo e diversificato. Ma non sei sicuro se è effettivamente opportuno fare questi acquisti o in quali percentuali. Nel corso della vita di tutti noi prima o poi giunge sempre questo momento in cui ci poniamo questa domanda. Quindi nel video di oggi, se riusciamo a completare o nei prossimi, cercheremo di affrontare questo tema che prima o poi affligge i pensieri di tutti, grandi e piccini. Quello che esporrò sarà chiaramente il mio punto di vista, ma poi ognuno con le materie prime potrà farci quello che vuole, anche comprare barili di petrolio o lingotti d'oro e tenerli sotto il letto. Mentre sto registrando non so se con un singolo video esauriremo il tema, perché prima di iniziare bisogna avere delle conoscenze preliminari. Iniziamo. Prima di tutto, cosa sono gli ETP? Negli ETP rientrano quelle famiglie di prodotti quotati in borsa che cercano di replicare un parametro prestabilito come per esempio un indice azionario, obbligazionario o appunto le materie prime. Gli ETP si possono dividere in ETF, che sicuramente gli iscritti al mio canale non conoscono, e poi gli ETN, che a differenza degli ETF sono delle vere e proprie obbligazioni. Quindi quando compriamo un ETN noi diventiamo creditori dell'emittente, indipendentemente da quale sia il sottostante che l'ETN sta tracciando. Con gli ETF no, noi non diventiamo creditori di qualcuno, perché siamo esposti direttamente, seppur in modo mediato, negli asset sottostanti. Questa differenza è importantissima, perché da questa differenza derivano rischi differenti. Se l'emittente di un ETF fallisce, noi non perdiamo nulla, perché lo strumento è nostro. Se l'emittente dell'ETN fallisce, non è detto che rientreremo in possesso delle somme versate, perché entreremo in competizione con tutti gli altri creditori della società. In realtà è un po' più complesso di così, perché ci sono delle eccezioni, ma per ora a livello concettuale ci può stare, poi capiremo meglio. Quando un ETN segue l'andamento di una materia prima, si chiama ETC. Allora, gli ETN e di conseguenza gli ETC sono obbligazioni particolari, perché appunto seguono l'andamento di un indice sottostante e anche perché non erogano cedole come le comuni obbligazioni e non hanno una scadenza prestabilita, caratteristica condivisa con gli ETF quest'ultima. Essendo quindi un'obbligazione, seppur strutturata, il valore di un ETN dipende non solo dall'andamento dell'indice replicato, ma anche dal merito creditizio dell'emittente. Perché se anche il valore dell'indice replicato dovesse volare alle stelle, se ci fosse il rischio di fallimento dell'emittente dell'ETN, quest'ultimo non avrebbe alcun valore. Quindi, in sintesi, quando si compra un ETN bisogna conoscere il merito creditizio dell'emittente. Bene, quando un ETN replica l'andamento di uno più materie prime, come già detto, questo prende il nome di ETC, che è lo strumento più usato per investire in materie prime preziose come l'oro o altre materie prime. Quindi capiamo meglio cosa sono questi ETC e come funzionano, perché alcune delle conclusioni a cui giungeremo dipendono dalle caratteristiche proprie di questi strumenti. Gli ETC possono essere a replica fisica o sintetica. La differenza di queste due forme di replica sono maggiori di quelle presenti per gli ETF. E se non si è consapevoli di questo e si scopre troppo tardi, potrebbe portare gli investitori a gesti inconsulti. Quindi attenzione, perché a volte parlando con voi mi rendo conto che certe cose non sono conosciute. Se è a replica fisica significa che l'ETC, anzi così capite meglio, se l'ETC è a replica fisica significa che l'obbligazione è garantita da una determinata quantità di materia prima fisica detenuta sotto i materassi dell'emittente. Così se l'emittente dovesse fallire, i creditori avrebbero una garanzia ulteriore rispetto a tutti gli altri creditori. Inoltre, questa garanzia ulteriore permette di tracciare in modo più fedele l'andamento dell'indice sottostante, perché l'influenza del rischio emittente sul valore dello strumento è inferiore grazie all'esistenza della garanzia rappresentata dalla quantità fisica detenuta. Se sto utilizzando termini come creditori o obbligazioni, serve per stressare proprio la differenza esistente tra ETC ed ETF. Quando la replica è fisica non ci sono contratti derivati di mezzo e la sicurezza per gli investitori è maggiore, perché il rischio di controparte è inferiore. Troveremo ETC a replica fisica per tutte le materie prime che ci sono sul mercato? Sarebbe bello, ma purtroppo non è così. Per evidenti motivi pratici, non tutte le materie prime fisiche sono acquistabili direttamente dagli ETC, per essere date come garanzia agli investitori. Pensate un po' al petrolio. Se l'emittente lo comprasse per tenerlo sotto al materasso, rischerebbe di saltare in aria. Se invece detieni l'oro fisico sotto il materasso, capite che il rischio è un po' più basso. Al massimo rischi di smattere il mignolino del piede, che è un appendice creata solo per farci soffrire. Ma almeno non rischi di scoppiare in aria. Ci sono materie prime e materie prime. Alcune sono più semplici di stoccare rispetto ad altre. Tendenzialmente le materie prime facilmente stoccabili sono quelle che rientrano tra i metalli preziosi, quindi principalmente l'oro e l'argento. Infatti i principali ETC a replica fisica che troverete replicano questi metalli. Quindi se si vuole avere un'esposizione sulle materie prime difficilmente stoccabili per tanti motivi diversi, come per esempio a causa della deperibilità del prodotto, quindi se si vuole avere un'esposizione su queste, non resta che la replica sintetica, pensata quindi per materie prime, non facilmente stoccabili. Con la replica sintetica l'ETC segue l'andamento delle materie prime tramite dei contratti derivati. E non ci sono materie prime fisiche a garanzia dell'obbligazione strutturata che abbiamo acquistato. Questo significa che il rischio emittente qua è sicuramente maggiore rispetto al caso precedente. Tutte le particolarità tra le due forme di replica si esauriscono con il maggior rischio di controparte? No, 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 va bene, mi fermo. Prima di perdervi tutti, sintesi rapidissima. Tramite gli ETP possiamo investire in strumenti quotati in borsa che ci permettono di esporci in determinati strumenti finanziari che possono essere azioni, obbligazioni o materie prime. Se acquistiamo gli ETF è quasi come se acquistassimo direttamente il sottostante del fondo, quindi per esempio le azioni di cui si compone. Noi siamo i proprietari dello strumento anche in caso di fallimento dell'emittente. Considerando come gli ETF sono costruiti, i rischi di un ETF azionario non sono molto diversi di quelli derivanti dall'acquisto di tante singole azioni diverse. E lo stesso vale per gli ETF obbligazionari. Sto parlando della natura dello strumento, quindi sto parlando di sostanza, della natura dello strumento. Non mi venite a dire mai, in realtà ci sono delle differenze. È ovvio che ci sono delle differenze. Ne parliamo da anni, quindi non fate gli inutili pignoli. Per quanto riguarda invece la replica tramite gli ETN, le cose sono molto diverse perché la natura del fondo è molto diversa da quella dei sottostanti, perché un ETN è un'obbligazione strutturata. Mentre i sottostanti possono essere svariati, come gli indici azionari o materie prime. Quando un ETN replica una materia prima si chiama ETC. Gli ETC possono essere a replica fisica o sintetica. Se a replica fisica abbiamo maggiori garanzie e un rischio emittente minore. Bene, torniamo indietro dove c'eravamo lasciati prima. Allora, le differenze tra ETC a replica fisica ed ETC a replica sintetica si concretizzano solamente nel differente rischio emittente? No, 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 no. Perché con gli ETC sintetici c'è anche il tema del rolling dei contratti futures. Qualche anno fa già avevo spiegato il meccanismo, rivediamolo in modo semplice. Ma, ma, fatevi dare uno schiaffo dalla prima persona che passa se non siete concentrati. Così vi svegliate. Bene, abbiamo detto che con la replica sintetica l'ETC non compra materie prime fisiche, ma compra contratti futures. Cioè, cos'è un contratto futures? È una forma di contratto utilizzato per regolare degli scambi che avverranno nel futuro, dove però le condizioni di questo scambio vengono determinate oggi. Ipotizziamo che io compri al prezzo di 100 euro un contratto futures che mi permetterà di ottenere da un pasticcere tra tre mesi 100 granite. Bene, io pago 100 e lui prepara queste belle granite che terrà riservate per me per poi a scadenza consegnarmele. In questo modo, io che magari temevo che il prezzo delle granite salisse in vista della stagione estiva, sono riuscito a bloccare il prezzo in anticipo. Così d'estate, mentre i turisti pagheranno le singole granite 1,20 euro, io me le sono garantite al prezzo di 1 euro. E lo so, sono un genio, poi magari mi verrà il diabete, ma questo è un problema secondario. Il valore di questo contratto future che io ho comprato, però posso anche rivenderlo prima della scadenza. Secondo voi, da cosa dipende il prezzo a cui potrei rivenderlo? Dipende ovviamente dal prezzo del sottostante, cioè dal prezzo della granita. Che cosa ha fatto il prezzo della granita nel frattempo? Se il prezzo della granita dopo il mio acquisto sale come il bitcoin, è chiaro che il mio future potrò rivenderlo ad un prezzo maggiore di 100 euro, perché sarà diventato particolarmente conveniente. È il contrario se il prezzo dovesse scendere. Bene, questo è il funzionamento, la struttura molto semplificata dei future. Qual è il problema? Che il costo di un future è solitamente maggiore del prezzo corrente della materia prima acquistabile. Quindi, tornando all'esempio, nel momento iniziale mi sono garantito una fornitura al prezzo unitario di 1 euro. Ma se avessi comprato quel prodotto subito, non l'avrei pagato probabilmente 1 euro, ma l'avrei pagato 90 centesimi. Perché il contratto future costa solitamente di più? Perché il fornitore per tre mesi dovrà sostenere una serie di costi per tenere il prodotto pronto per essere consegnato alla scadenza del contratto future in futuro. I costi, di che costi stiamo parlando? Stiamo parlando dei costi di stoccaggio della materia prima. Quindi il fornitore dice, ok, blocchi il prezzo, ma ti riaddebito non solo il costo della materia prima che hai comprato, ma anche tutti i costi che io dovrò sostenere per tenere bloccato i tuoi prodotti nel mio magazzino. Ovviamente la differenza di prezzo tra il contratto future e il prezzo corrente è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del contratto, ovviamente. Questo vuol dire anche un'altra cosa, cioè che contratti future con scadenze brevi hanno un prezzo più vicino al prezzo corrente del prodotto. Quindi man mano che ci avviciniamo alla scadenza del contratto, il prezzo del contratto future che abbiamo comprato tenderà a ridursi. Per incontrare poi a scadenza il prezzo corrente della materia prima, nel nostro caso. Una volta che il contratto future è acquistato dal nostro ETC sta giungendo a scadenza, cosa accadrà? Che l'ETC dovrà vendere il contratto future in scadenza e acquistarne uno nuovo con scadenza più lunga, in modo da garantire agli investitori un'esposizione ininterrotta nella materia prima. Ma come abbiamo detto, l'ETC si troverà nella situazione scomoda di vendere un ETC a breve scadenza, che ha quindi un prezzo più basso dell'originario, e dall'altro lato acquistare un nuovo contratto future ad un prezzo più elevato, perché il nuovo contratto avrà una scadenza ovviamente più lunga. Questa differenza di prezzo rappresenta un costo spesso importante, che nel lungo periodo va ad erodere il valore dell'ETC che abbiamo acquistato. Questo effetto appena descritto prende il nome di effetto contango e riduce molto la convenienza di investire in materie prime tramite ETC a replica sintetica. L'effetto contango non c'è sempre, ma diciamo che comunque la normalità. Questo significa che se nel lungo periodo, per esempio, il prezzo spot, il prezzo corrente della materia prima, dovesse restare costante, il nostro ETC subirebbe delle perdite costanti. È chiaro invece che se il prezzo delle materie prime dovesse crescere in modo importante, riusciremmo comunque ad ottenere un guadagno se l'effetto contango è meno che proporzionale rispetto all'incremento di valore della materia prima sottostante. Quindi diciamo che con gli ETC a replica sintetica bisogna stare molto attenti. Con il prossimo video vedremo se nonostante questo è il caso di investire in materie prime, guardando anche altre statistiche, ma anche se è il caso di investire nell'oro e anche quanto. Ovviamente il video sarà realizzato se sarà di vostro interesse. Prima di concludere ricordiamo anche che gli ETC presentano un vantaggio rispetto agli ETF, ovvero sono fiscalmente efficienti. Questo significa che possono essere usati per recuperare le minusvalenze. Magari tra qualche anno la normativa cambierà e si potrà fare la stessa cosa anche con gli ETF. Però intanto per ora la situazione è questa. Comunque se questo dovesse accadere nei prossimi anni ho un appello da fare. Tu uomo del futuro che stai guardando questo video, non lasciare commenti poco intelligenti che altrimenti te la vedrai con il me del futuro, cioè del tuo presente. Per ora gli ETC sono fiscalmente efficienti, gli ETF no. In futuro non si sa. Si sta parlando sempre più spesso di effettuare un cambio nella normativa. Ma questo ancora non è certo. Bene, se non siete ancora iscritti al canale, da qualche mese sto dedicando una serie di video all'approfondimento degli ETF specifici tramite cui possiamo investire nel mercato, cercando di approfondire e capire meglio il profilo di rendimento e rischio di ogni indice. In descrizione vi lascio la playlist se volete dare un occhio. Come sempre, se volete anche supportare il canale nel processo divulgativo e o ricevere alcuni contenuti esclusivi, in descrizione trovate come fare, altrimenti è sufficiente anche un semplice like o commento. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto. Se volete che continui con la seconda parte di questo video, fatemelo sapere tramite commenti, un like e condividete il video. Fatelo tutti. Per oggi è davvero tutto. Ciao.